Arriva Cesare! Arriva Cesare! Quanti sono loro? Una cinquantina, più o meno. E noi? Noi siamo solo i cinquecento. Cristian Clavier è Asterix. Golli a me! Gérard Depardieu è Obelix. I romani sono tutti miei. Laetitia Casta è Falbalà. E' stata quella smorfiosa di tutti così? Non c'è quello che dici. Roberto Benigni è Detritus. All'attacco! C'è un'arma segreta, governatore. Una pozione magica. Se qualcuno capisce questo segreto, diventa padrone del mondo. Tu, me nascondi qualcosa? Io, Cesare, te lo giuro sulla testa di Filobus. Vuoi vedere Cesare? Veste l'embriano. Andate, andate! Che avete paura? Hai vinto. Ti preparerò la pozione magica. Funzio! No! Yuhuu! Voglio regnare su Roma! Asterix e Obelix contro Cesare. Cesare? E chi è sto Cesare? Ha 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 ha! Ah! Ha ha ha! Ah! Ah!